Allora, fra i tanti bandi che sono usciti in questo periodo per attingere a finanziamenti dovuti all'adeguamento per le norme Covid, ce n'era uno recentissimo che scadeva esattamente ieri pomeriggio alle 18, per chiedere finanziamenti per strutture modulari esterne e anche per altre spese, facchinaggio, anche altre cose. Noi abbiamo pensato di aderire a questo bando e ieri proprio è stata inoltrata la richiesta per delle strutture esterne che non sono dei container naturalmente, sono delle strutture esterne necessarie in alcuni casi ad approntare l'attività di triage, attività che faremo in tutte le nostre scuole dell'infanzia comunale. Quindi questo significa aver fuori una situazione che ti ripara dalla pioggia, dal sole, se c'è il sole, eccetera. Queste stesse strutture esterne, aperte, saranno posizionate nei nostri giardini perché svolgano la stessa funzione, cioè riparino sostanzialmente o da troppo sole o dalla pioggia, eccetera. Teniamo molto come amministrazione comunale a precisare una cosa, non sono spazi alternativi alle aule, sono spazi da fruire nel momento in cui si vuole avere all'esterno un posto dove passare un po' di tempo senza passarlo sempre dentro la stessa aula. Sapete benissimo che è molto incentivato il fatto di stare all'aperto, però all'aperto sotto il sole si sta male, all'aperto sotto magari la pioggerellina magari ci si può stare perché la temperatura non è bassissima, però questo ti consente di riparti dalla pioggia, quindi questo consente di poter fruire meglio gli giardini esterni da parte dei nostri bambini. Arriveranno anche dei nuovi banchi? Allora, nuovi banchi arriveranno sia dalle forniture richieste dai nostri dirigenti scolastici alla famosa gara dei banchi del commissario Arcuri, ormai li chiamiamo tutti i banchi di Arcuri, perché naturalmente i nostri dirigenti ne hanno chiesti una quantità importante, diverse centinaia. Noi come comune ugualmente ci stiamo attrezzando e ne abbiamo in ordine, un ordine da completare ancora, ma comunque un ordine già in qualche modo fermato di 400 banchi, perché insomma dei banchi più piccoli ci consentono una grande flessibilità e quindi riteniamo opportuno anche averne un po' di scorta. Facciamo però anche un po' di chiarezza, questi banchi avranno delle rotelle? Assolutamente no. I banchi che già sono nelle aule, forse li vedete anche qui, dei banchi di quel tipo, un po' più piccoli di quelli che vediamo, sono i banchi studiati più piccoli possibile come seduta per un bambino in modo, come sappiamo tutti, da consentire il distanziamento, quindi questo famoso metro, eccetera, eccetera. Il banco con le rotelle invece è una seduta più che un banco, con la ribaltina davanti ed ha le rotelle ed è un banco assolutamente invece adatto a ragazzi più grandi, non alla fascia interessata per noi che è quella fino alla scuola secondaria di primo grado, cioè la scuola media. Il nodo mascherine è stato sciolto? Allora, il nodo mascherine in linea di massima sì, come sappiamo, nel momento in cui si transitano spazi comuni ovviamente bisogna portare la mascherina. La mascherina tutti i nostri bambini la possono togliere nel momento in cui si siedono nel banco. Perché? Perché comunque con l'organizzazione che ci stiamo finendo di dare in queste ore riusciamo comunque dentro i nostri edifici a recuperare sia tutti gli spazi necessari quindi non abbiamo avuto bisogno di affittare spazi da famosi oratori o aule da altre parti, eccetera. Per fortuna siamo stati autosufficienti con i nostri edifici e naturalmente rinunciando ad alcuni spazi, a volte preziosi, ci rendiamo conto, come in alcuni casi anche lo spazio mensa, eccetera. Siamo riusciti però a contenere tutti i ragazzi dentro non solo, anche ad assicurare il famoso metro di distanza. Quindi questo significa che il bambino quando si siede la mascherina la può togliere naturalmente la rimette nel momento in cui si alza per andare al bagno, eccetera, quello sì però nel momento in cui sta seduto la può togliere perché il metro di distanza è garantito sostanzialmente dappertutto. Tengo a precisare questo, qualora poi ci fosse qualche situazione di forme che in attesa dell'arrivo di questi banchi più piccoli, sappiamo tutti che la fornitura di arcuri per esempio sarà fino a ottobre, potrebbe esserci all'inizio dell'anno scolastico cioè il 14 settembre, i banchi che non sono arrivati quindi se c'è qualche centimetro di differenza magari il dirigente scolastico dice finché non arrivi il banco più piccolo tenete la mascherina però è una situazione assolutamente transitoria, insomma la situazione a regime è il rispetto della distanza.